ben ritrovati amici di order of the orb ed eccoci alla seconda grande novità che vi avevamo annunciato questo sarà il nuovo formato che verrà affiancato alle svedis rulles e all'italia rulles per il prossimo anno ovvero pauper old school bene perché questa follia totale diciamo che ci siamo accorti che ci sono ovviamente delle carte di power level molto basso che nei vari formati quindi sia italiani anche svedici non vengono quasi mai utilizzate e questo è stato fatto notare anche da tanti giocatori che ci hanno sempre detto è però certe carte non si riescono a giocare io vorrei giocare il ragno gigante ma è una carta che fa schifo io comunque nella mia infanzia quando ho iniziato a giocare non avevo non usavo le p9 le due ma non usavamo carte tra virgolette e scarse bene ragazzi questo è il formato che vi consentirà di giocare quelle carte le carte della vostra infanzia bene una rapida occhiata a a questo pauper old school che per chi non conoscesse in generale il pauper nel formato pauper si possono giocare solo le carte comuni essendo questo quindi il pauper old school si possono usare solo le comuni delle prime sei espansioni andiamo a vedere e velocemente quindi possono essere usate le carte comuni ovviamente escluse le terre base e il mazzo ovviamente deve essere sempre di 60 carte più il sideboard sono come al solito bannate le carte con la posta l'unica carta comune che chi ha fatto la br ha bannato è single tutto il resto è giocabile in 4 per tra l'altro chi ha creato il formato e ha diciamo che lei la teorizzato ha dato già qualche indicazioni che andiamo a vedere allora ma la source ramp base sono veramente limitate le le fonti di mana quindi a parte le terre come quindi dai ramp come dark ritual world world grow gli elfi di lanuar ok poi ci sono pochi sono limitati i removal per creature sono molto limitati quindi alcuni dei removal sono hash to ashes terror fissure e sono segnalate come carte quindi molto molto interessanti e molto forti quindi aggiungerei che chiaramente ci sono anche anche i botti che possono fungere anche da da removal allora bardec as counter magic is scarcer and are limited creature e creature removal quindi qui ribadisce che ci sono scarsi remozioni per creature big creature are limited quindi le grosse creature sono limitate e solid large creature now defined as 3 3 2 4 quindi in pratica dice che le creature gigantesche comuni sono poche e adesso una creatura 3 3 e 2 4 se non più grossa quindi 4 4 eppure il crowd worm per esempio quindi iniziano a essere creature rispettabili quindi le creature abbastanza ciccione e poi qua appunto segnala quali sono le un po le creature più grosse tra l'altro da segnalare che il verde ha 10 delle 16 creature più grosse cosa molto molto interessante le creature volanti sono molto limitate poi rook egg e nave fantasma ghost ship as the only cards that provide the offline creature sono quindi sono tra le creature volanti tra le tra le più forti sono limitate anche le creature con rigenerare e soprattutto segnala che da spada e spiega non fa parte del formato cosa molto molto importante ok ok artefatti gli artefatti sono veramente limitati e deboli secondo me qualcosa di interessante c'è no questo prendiamo queste note e ne teniamo conto raiz dead è l'unica carta nel formato in grado di riprendere creature dal cimitero ok queste sono le note diciamo che sono state fornite bene e una rapida occhiata al pool che poi verrà postato nel gruppo questo è il pool ci hanno già fornito il pool di carte del pauper old school questo è un rapido esempio ragazzi che meraviglia circoli di protezione creature bianche con branco pegaso delle mese forza sacra luce sacra mamma mia ragazzi il guaritore spettacolo spettacolo l'elefante con branco meraviglia meravigliose ragazzi meravigliose queste sono le carte bianche c'è un inizio delle carte blu quello del suo boomerang il dan dan poi scarica blu fortissima in un formato dove comunque il rosso ha kird ha botti ha fireball insomma il rosso ha delle carte molto interessanti andiamo avanti scorriamo un po' il pool vediamo vediamo flying man nave fantasma quindi molto forte un volante che rigenera comunque il blu ha il ping strego errante abbiamo abbiamo anche qualche counter quindi power sink spare blast quindi anche questa deve essere una carta molto forte mutazione instabile più 3 più 3 permanente una creatura che poi ovviamente ogni turno si becca il segnalino però non è non è niente male saggio carino però effettivamente ci sono pochi artefatti questa per me è una carta esagerata ragazzi flood che può tappare le creature meraviglioso andiamo a vedere poi c'è il nero ragazzi il nero c'ha un sacco di carte molto 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 interessante ha le streghe che pingano ovviamente il rito scuro che secondo me in questo formato non deve essere comunque una bellissima carta perché comunque sia insomma accelera è vero ma non ci sono grosse bombe da fare quindi un meno uno sulla mano i predoni di erg scheletri rigeneranti il bruma il bruma è immenso qui poi cosa abbiamo il risucchia vita bomba perché fa sia danni che può fare anche rimuovals una creatura e riprendere le vite polvere alla polvere bella rimozione poi cosa abbiamo di interessante andiamo avanti dopo avrete modo di di guardarvi bene tutto il pool ovviamente c'è paralisi o bilet belle carte sim call vi ricordo bannato e poi c'è il rosso c'è il rosso con Atob sete di sangue un botto di danni perché ci sono i fulmine a catena c'è la fireball c'è il fulmine il kird quindi sicuramente potrà uscire un mazzo monorosso anche rosso verde visto che comunque ci sono gli spiritelli di scribble e crescite giganti può saltar fuori un agrino una sorta di zoo pauper molto interessante ci sono i vari goblin si ok altre cose interessanti vediamo c'è disintegrate quindi hai otto botti agli X molto carini andiamo avanti c'è la reb comunque interessantissima shutter qui non dovrebbe essere anche in virtù dei pochi artefatti però però spacca artefatto c'è buuuu fuochi d'artificio ragazzi questi meravigliosi questi fanno un mare bestia e poi si passa al verde e il verde il verde in questo formato è tanta roba perché ha delle creature veramente enormi abbiamo i cinghialoni quattro quadri il kravvorm ragazzi questa carta meravigliosa io assolutamente devo montare un mazzo con quattro kravvorm ma per forza di cose e poi abbiamo comunque in generale creature grosse ragno gigante cioè creature veramente molto molto interessanti creature creature ciccione quindi anche un bel mono verde secondo me di bello la volante e anche un verde che rampa e tira ciccioni e potrebbe diventare un mazzo assolutamente interessante andiamo avanti oh e qui abbiamo la nostra diciamo chiamiamola variante ovvero innanzitutto abbiamo questa parte di artefatti comuni secondo me comunque interessanti perché abbiamo la clay statue che comunque è artefatto è un 3-1 rigenerante quindi secondo me è un bel muretto abbiamo interessante feldon in qualche mazzo di controllo secondo me potrebbe essere anche questo potrebbe essere molto molto carino e un'altra carta che ho trovato interessante è la fontana per recuperare punti vita e potrebbe avere una sua utilità in certi mazzi control e altre cose vediamo la catapulta è una carta che a me non mi dispiace come pingatore di volanti la nostra variante va ad aggiungere al formato oasi perché? perché parlando con alcuni giocatori che hanno già provato questo formato ci hanno segnalato che deserto è una carta devastante fortissima e per chi non lo sapesse deserto spara un danno a una creatura che appena che ha inflitto danno e quindi deserto va a fare una strage praticamente di creature col body basso e facendo quindi vantaggio carte ci è sembrato giusto legalizzare la carta che va a contrastare deserto per parco indicio quindi deserto spara i danni oasi previene un danno a una creatura e quindi permette di compensare il danno di deserto questo ci è sembrato giusto perché altrimenti deserto sarebbe una carta che in massimo magari anticreatura potrebbe essere abbastanza opprimente e quindi questo è quanto ragazzi paupero old school è la novità e la novità ripeto il senso è giocare quelle carte inchiavabili che in old school non si sono praticamente quasi mai viste se escludiamo va bene quelle forti fulmine palla di fuoco quelle si sono viste ma tutto il resto cravorm ragno gigante ci sono tantissime comuni che in old school sono praticamente ingiocabili in quasi tutti i formati old school ecco qui diventano carte interessanti e giocabili e in generale è un formato che secondo me può far giocare questo tipo di carte può stimolare il deck build comunque sia perché comunque mazzi monocolori bicolor è comunque un formato molto inesplorato a livello di old school questo questo pauper e quindi all'inizio sarà molto molto bello interessante mettersi lì a studiare che mazzo giocare e soprattutto prendere gli scatoloni della palta e mettersi a creare il mazzo e spero che viaccia quindi non saranno tantissimi tornei durante l'anno però un 2 2 3 30 durante tutto l'anno li faremo e spero che sia divertente perché si vedranno tante carte appunto che non si sono mai viste quindi studiatevi il pool ragazzi pensate a qualche mazzettino provate delle combinazioni perché questo questo tipo di torneo ci sarà sarà un altro modo per cercare di qualificarsi al torneo di fine anno all'All Star giocando un mazzo di tutti i comuni quindi spero che questa novità vi sia piaciuta e non vedo l'ora di giocare contro di voi con tutte le comuni che abbiamo in casa ragazzi con questo direi che ho concluso vi saluto ragazzi e al prossimo video legato sempre al formato old school ciao